Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video e oggi ragazzi siamo qui come avrete sicuramente visto da titolo con un nuovo fact time Per chi si fosse perso il mio ultimo fact time che è il fact time con mia mamma, un video veramente divertentissimo Andate a cliccare nella i qui in alto a destra per vederlo perché sono risate assicurate Filippo mi chiede, ciao app, ho un paio di domande da farti, farai mai vedere tuo fratello? Rispondo già a questa domanda? No, perché non farò mai vedere mio fratello? Una domanda che voi mi avete chiesto in tantissimi e mi continuate a chiedere Semplicemente perché mio fratello sul mio canale non vuole comparire Dunque mi sembra giusto e su internet in generale, apro la parentesi Che io non mostri il suo volto se lui non è d'accordo nell'essere mostrato davanti a migliaia di persone Quindi non mostrerò mai mio fratello Come ti è venuta la voglia di fare i video su youtube? Farete mai un altro raduno? Ti prego salutami, sei un grande Ciao Filippo Allora, come ti è venuta la voglia di fare i video su youtube? Onestamente non lo so, dato che io sono su youtube dal 2012 Sono su youtube da veramente tantissimo tempo Ero piccolo, youtube non era conosciuto come lo è adesso Non c'erano gli youtuber, nessuno era particolarmente famoso O a meglio conosciuto, popolare Io ho iniziato a fare video sullo skateboard Poi sono andati abbastanza bene Allora ho deciso di continuare e adesso mi ritrovo qui Farei mai altri raduni? Senza dubbio li faremo C'è bisogno di molta organizzazione e soprattutto di tanto tempo libero Matteo, ciao Edo Hai intenzione di prendere l'iPhone 7 quando uscirà? E invece al compimento di 16 anni Prenderai la patente per il 125? Bella app, continua così Ciao Matteo Allora, hai intenzione di comprare l'iPhone 7 quando uscirà? Assolutamente no Non perché a me non piaccia l'iPhone 7 Ma perché io prendo sempre i modelli con la S Che sono dei modelli rivoluzionari Però migliorati del dispositivo che è uscito prima Non so se mi sono spiegato In ogni caso ho appena comprato il 6S Comunque un anno fa ho comprato il 6S Mi va benissimo il 6S Uscirà il 7 e poi molto probabilmente andrò a prendere il 7S E per la domanda per il 125 non lo so Nel senso che se riuscirò a convincere mio padre a prenderlo Perché c'è da dire onestamente che un 125 è una spesa veramente molto alta Tra l'altro il KTM che vorrei io di 125 costa 8.890 franchi svizzeri Se non sbaglio quindi sono veramente tantissimi soldi Se riuscirò a convincere mio padre a prendermi quello e non la macchina Sempre se è dell'idea di prendermi la macchina Sì Se no no Però comunque non è una cosa di cui ho troppo bisogno Enea mi fa una domanda veramente molto interessante Le apparecchiature come Reflex e cose varie Le hai prese grazie a YouTube con i soldi che hai tenuti negli anni? Allora voi tutti o comunque la maggior parte di voi mi dicono Ma tu sei un figlio di papà, sei un viziato, tuo papà ti compra di tutto Oddio ho tirato una botta al microfono E quello che vi rispondo io è che voi non sapete nulla Perché innanzitutto con YouTube si guadagna Con YouTube si guadagna io non vi posso dire le mie cifre Quello che io guadagno per cui mettiamo 100 euro al mese Sto sparando una cifra, 100 euro al mese Poi io faccio il fotografo in discoteca Quindi ovviamente facendo il fotografo in discoteca vengo pagato Ho una paghetta da mio padre Sì ho una paghetta da mio padre perché ho una moto Devo pagarmi la benzina Loro mi fanno pagare tutte le cene Per cui devo gestirmi in qualche modo con alcuni soldi Quindi ho una piccola paghetta che appunto mi viene data da mio padre Che comunque è bassissima Ogni tanto mi viene richiesto di fare delle recensioni particolari Quindi quando ve lo dico Una recensione mi viene pagata per esempio 100 euro Sono sempre quei 100 euro che mi vado a mettere da parte E che utilizzo poi con il passare del tempo per acquistarmi le attrezzature Quindi le ho pagate io con YouTube e con i risparmi? Assolutamente sì I miei genitori non ci hanno mai messo un euro Nicolas mi chiede Che cosa ne pensi di tutto quello che sta succedendo a YouTube Italia E di YouTube fa cagare? Inizio nel dire che io ho iniziato a vedere i video di YouTube fa cagare Quando aveva 2000 iscritti Per cui verso il suo inizio Adesso è a 214.000 In pochissimo tempo Pensate che io ne ho fatti in 4 anni 27.000 Yeeeh In ogni caso che cosa ne penso? Credo che sia uno YouTuber che merita E non uccidetemi Ognuno ha le sue opinioni Credo che sia uno YouTuber che merita Molto semplicemente perché ha portato un contenuto diverso su questa piattaforma Che non è il solito prank Oddio me le ha uscite Epico Scherzo incredibile Cosa del genere Ma è la verità È effettivamente ciò che pensano le persone che lavorano su YouTube Lo fa senza scrupoli ma senza andare contro le altre persone Per cui senza insultare Lo fa in modo divertente Quindi mi piace molto il suo canale È una cosa che sinceramente guardo molto volentieri Non lo odio per niente Riguardo alla sua crescita C'è da dire che con tutto il rispetto Adesso non so quanto lavoro ci sia effettivamente dietro i suoi video Però me lo posso immaginare da YouTuber che sono Non c'è questo gran lavoro Nel senso che lui registra un gameplay Registra una voce E parla di YouTuber emergenti Quindi è molto facile ottenere visualizzazioni utilizzando nomi di altri Con questo però non gli tolgo nulla Perché se l'avessi fatto io al posto che lui Probabilmente non sarei spiccato come ha fatto lui Perché di sicuro ha qualcosa che qualcun altro non ha Quindi come parere finale vi dico che onestamente mi piace come canale E che lo supporto Rispondo ad una domanda che non mi ha fatto nessuno di voi qui nel post delle domande Ma in ogni caso ve la dico perché me la continuate a fare di solito nei video e così Come hai fatto a fare la tua immagine di profilo? Non l'ho fatta io L'ho fatta a Marksview che è un nostro amico Un mio amico Un nostro amico Un nostro di chi? Comunque me l'ha fatta lui E non farai Non faremo un tutorial su come farla Perché se no la fareste tutti E non sarebbe più qualcosa di particolare Come ultima domanda di Fra Che credo sia proprio l'abbreviazione di Francesco o Francesca In ogni caso Oltre a Youtube fai qualche altro lavoretto E consigli di prendere una moto usata Allora per la moto usata dipende Se ti prendi un cinquantino usato E poi sei sicuro di prenderti il 125 Vai sull'usato Io l'ho preso nuovo Però comunque se lo prendi usato non ci perdi nulla Perché ti costa un po' di meno Poi tanto dopo due anni lo cambi Mentre invece se sai di prenderti un cinquantino O un 125 E tenertelo per molto tempo Io personalmente preferisco prenderlo nuovo E alla seconda domanda Su qualche lavoretto Sì oltre allo Youtuber Come vi ho detto prima Faccio il fotografo in discoteca Quindi ho le attrezzature Ora ve le faccio vedere Uso la mia Canon 1200D Con questo flash Che vi linkerò qui sotto nella descrizione Costa pochissimo Ed è veramente molto molto buono Mi pagano ovviamente un tot ad ogni settimana E poi ovviamente faccio anche un po' di fotoritocco Per ogni foto Quindi ragazzi io spero che questo fact time vi sia piaciuto Lasciate tantissimi mi piace Fatemi sapere che cosa ne pensate di Youtube fa cagare E di questo genere di argomenti Di cui si sta parlando ultimamente Appunto su Youtube Qui sotto nei commenti Noi ci rivediamo in prossimo video Iscrivetevi al canale E adios